L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad undici stelle si inchinavano a me. Figlio mio. In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio vendere. Ehi, forza! Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi. Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì alle 20.55. Non voglio venduto dai miei fratelli.